Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, in questa video-guida vorrei parlarvi della ruota pedagogica, anche approfittando del fatto che è stata recentemente tradotta in italiano da Maria Cristina Bevilacqua e quindi ora è disponibile la versione 5 della pedagogy wheel della nostra lingua. Questo signore è Alan Carrington, dell'Università di Adelaide, è l'autore della rappresentazione grafica della ruota che vediamo, ma la ruota della pedagogia è frutto di un lavoro collettivo che risale almeno alla fine del secolo scorso, all'inizio del XXI secolo, che ha coinvolto molti autori, molti personaggi, come Paul Hopkins, consulente educativo, come Sharon Hartley, che decise di integrare con la tassonomia di Bloom, la ruota pedagogica, come Cappi e Schrock e via dicendo. Tutti questi signori erano accomunati da un problema, e cioè come integrare al meglio le tecnologie digitali e il web nell'educazione e quindi nella didattica, ma questa è solo la prima parte del problema, o se volete una faccia della medaglia, perché, come si legge in molti articoli in inglese che presentano la ruota pedagogica, la ruota non riguarda le tecnologie, riguarda la pedagogia. Cosa vuol dire? Vuol dire che spesso utilizzando le tecnologie nella didattica, incorriamo in una inversione, sovvertimento, ribaltamento della finalità, e cioè, anziché impiegare le tecnologie al servizio di obiettivi educativi, utilizziamo l'educazione e la didattica al servizio di obiettivi tecnologici. Per spiegarmi meglio, per spiegare ciò che intendo dire è quello che è il problema, farò riferimento a questo video molto noto in spagnolo o portoghese intitolato Tecnologia o metodologia. In una prima fase, infatti, l'ingresso delle tecnologie era percepito in modo quasi fideistico e religioso, quasi che il mero uso delle tecnologie avesse automaticamente prodotto un miglioramento nell'insegnamento e nell'apprendimento. Come testimonia, questo noto video, faccio scorrere senza l'audio, qui la maestra sta mostrando sistemi e tecnologie tradizionali delle moltiplicazioni, vedete gli alunni ripetono, 2x2 è 4, 2x3 è 6, 2x4 è 8, ecc. Ma ecco che arriva il dirigente scolastico che annuncia che arriveranno presto i computer, il videoproiettore e presto la classe sarà una classe tecnologica. E così vedete la maestra usa il videoproiettore, gli alunni hanno il computer ed ecco cosa succede. leggendo sullo schermo del loro computer quello che è anche proiettato dal videoproiettore ripetono 2x3 è 6, 2x4 è 8 e così via. Risultato? Ecco la domanda. Tecnologia o pedagogia? Non si deve infatti confondere l'innovazione, cioè il cambiamento sul piano didattico con l'introduzione di nuovi strumenti tecnologici che è proprio quello che è accaduto, si pensi a cos'è accaduto in Italia appunto con le Lim nel primo decennio del ventunesimo secolo, quindi qualche anno fa le Lim, ecco vi era un'attesa quasi messianica dell'arrivo della Lim in realtà il problema non era tanto di disporre la Lim ma di come integrarla nella didattica quindi cos'è accaduto? E' accaduto che da un lato vi era una insoddisfazione generalizzata non solo negli studiosi ma anche presso i docenti e gli studenti di quella che era la didattica che oggi viene definita trasmissiva e quindi l'esigenza di cambiare la didattica e dall'altra l'ingresso delle tecnologie digitali e del web ha in qualche modo intercettato questo bisogno ed è sembrata la risposta ma in realtà è una risposta molto più complicata ovvero detto in altro modo, la linea che collega i due punti del cambiamento didattico da una parte superare il modello trasmissivo e dell'integrazione delle tecnologie digitali nella didattica dall'altra non è una linea retta come diceva Flaiano con altri scopi la linea breve tra due punti è l'arabesco in questo caso limitandoci ad usare delle app nell'attività didattica non otteniamo necessariamente risultati migliori anzi, questi risultati sono spesso peggiori si pensi ai video che noi realizziamo clicchiamo sul web, per esempio su YouTube che sono delle lezioni biecamente trasmissive di tipo assolutamente frontale che non riescono a sfruttare tutte le potenzialità offerte dal web e dal digitale ecco che allora la ruota pedagogica è uno strumento interessante certo anche qui non possiamo pretendere che sia la soluzione di tutti i problemi però cerca di impostare la risposta al problema di fondo di cui stiamo parlando integrare le tecnologie ma in funzione di un discorso educativo in un modo, a mia modesta opinione, corretto e in che modo? facendo riferimento da un lato alla tassonomia di Bloom e dall'altro al modello Summer in questo lungo post in cui presento la versione italiana della ruota della pedagogia curata da Maria Cristina Bevilacqua cerco di offrire un percorso di approfondimento fornendo dei link fornendo anche a dei video, a dei video tutorial e così via che trattano di questi problemi ma soprattutto trattano di come la ruota li affronta infatti la ruota non si limita a elencare le ho contate, sono circa 200 applicazioni disordinatamente ma le strutture, assumendo come principi organizzativi di questo ordine due categorie, due riferimenti uno è quello della tassonomia di Bloom rivista nel 2001 come segnalato anche qui da Ketwell e Anderson il riferimento alla tassonomia di Bloom serve per fissare gli obiettivi che sul piano cognitivo vogliamo ottenere utilizzando queste app e quindi si parte dal più basso il ricordare per salire di livello quindi comprendere, applicare, analizzare, valutare e creare l'altro principio organizzativo è quello del modello Summer sviluppato da Ruben Puentedura che ha l'obiettivo di facilitare l'azione di integrazione delle nuove tecnologie nella didattica sempre tenendo fermo il punto che si tratta di conseguire obiettivi educativi queste sono le quattro differenti modalità con cui possiamo integrare le tecnologie nella didattica lo possiamo vedere come un percorso che comincia dalla sostituzione e prosegue con l'accrescimento e così via o lo possiamo vedere anche come differenti modelli che possiamo usare a nostro piacimento a seconda delle circostanze abbiamo infatti sostituzione e potenziamento accrescimento questi due modelli in pratica le tecnologie sono usate per ottenere risultati che possono essere realizzati anche con tecnologie tradizionali mentre la trasformazione che si articola a sua volta in due fasi la modifica e la ridefinizione comporta l'utilizzo delle tecnologie per realizzare attività o comunque trasformare la didattica in quanto si possono realizzare attività che non possono essere svolte se non con le tecnologie in questo primo caso per esempio la sostituzione le tecnologie sostituiscono strumenti tradizionali senza che ci sia nessun vantaggio o miglioramento sul piano funzionale, didattico, educativo per esempio anziché scrivere a mano gli studenti utilizzano un'app, un editor e scrivono digitando se prendiamo invece l'accrescimento ecco in questa fase invece la tecnologia viene usata per sostituire metodologie tradizionali ma si ha anche un miglioramento del risultato per esempio utilizzo un editor digitale per esempio il solito Word poniamo ma lo utilizzo in modo da sfruttarne appieno le funzionalità, inserire immagini il controllo ortografico la generazione, il layout della pagina l'ipertestualità e così via ottenendo risultati che con la scrittura io non posso ottenere e così via se andiamo alla ridefinizione alla modifica e alla ridefinizione in questi casi noi abbiamo un utilizzo della tecnologia che consente di riprogettare attività tradizionali modificandolo in modo significativo o addirittura di progettare attività che con gli strumenti tradizionali erano impossibili poniamo, utilizzo un editor online che mi permette la scrittura collaborativa che permette il peer tutoring che permette di commentare le frasi scritte dagli altri mentre gli altri le stanno scrivendo di pubblicare poi il tutto sul web e quindi di avere potenzialmente milioni, miliardi di lettori ecco, tutte queste cose con la scrittura tradizionale si possono fare solo in parte o per nulla la traduzione di Maria Cristina Bivilacqua è molto completa perché come vedete abbiamo una serie di testi criteri di selezione delle app la storia della ruota link che forniscono un contesto molto significativo che offre anche come dire le istruzioni d'uso della ruota e ne spiega anche l'intento il significato che ribadisco e ripeto grazie al riferimento alla tassonomia di Bloom e al modello Summer è quello di porre il focus non sull'apprendere le tecnologie ma sull'apprendere con le tecnologie concludo con una breve illustrazione dei livelli della ruota infatti abbiamo una ruota che è rappresentata a vari cerchi concentrici ciascuno di quali rappresenta un livello differente questa è la dimensione sociale ed emotiva dell'apprendimento cioè da quello che è il contesto a partire dal quale si sviluppa un'azione formativa e quindi riguarderà che sono le finalità gli obiettivi che si vogliono conseguire in termini di capacità competenze abilità conoscenze i profili professionali che risultano alla fine del percorso formativo le varie anche teorie e paradigmi educativi e pedagogici che sono in gioco interessante appunto perché è interattiva la ruota la ruota cliccando su questo link si va a un TED Talk di Damping che si occupa proprio della motivazione poi vedete abbiamo un altro cerchio che distingue suddivide e classifica le app in base alla loro congruenza con uno degli obiettivi delle categorie della tassonomia di Bloom non so capire e qui abbiamo tutta una serie di app queste che forniscono una strada una via o degli strumenti per realizzare questo obiettivo in questo altro livello quello dei verbi d'azione le attività che si possono sviluppare per realizzare questo obiettivo con queste app vengono indicate con dei verbi e questo può essere d'aiuto può essere un suggerimento o può ispirare altri verbi più adatti alle nostre esigenze quindi il cerchio successivo il livello successivo quello delle attività invece indica delle attività cioè traduce quei verbi in attività didattiche costruire un wiki definire spiegare assegnare etichette annotare e così via per esempio per conseguire l'obiettivo di comprendere dobbiamo certamente commentare raccogliere informazioni raccogliere fonti eccetera ed ecco che un programma di annotazione come non so google keep potrebbe essere utile finalmente abbiamo il livello delle applicazioni per esempio qui sono indicate varie applicazioni le potete leggere da soli interessante che possiamo cliccarci sopra e si aprirà come vedete google play perché io ho preso la ruota delle app android o altrimenti itunes se scaricate il pdf della ruota padagogica per sistemi ios diciamo ipod iphone e così via l'ultimo cerchio quello in grigio e in grigio non ha colori proprio per un motivo ben preciso lo dobbiamo immaginare come un cerchio che può ruotare noi infatti possiamo utilizzare io prima ho parlato di google keep una di queste sky map o quello che volete voi clickers wechat o in modalità sostitutiva oppure in modalità per esempio di aumento e così via cioè sta a noi poi realizzare una di queste attività che si concretizzano in un determinato compito che di volta in volta a seconda delle nostre esigenze di quelle dei nostri alunni potrà essere sostitutivo oppure sostitutivo ma con cambiamenti oppure con miglioramenti modifica eccetera eccetera bene in questa mia guida o percorso dedicato al lavoro di Maria Cristina Bevilacqua potrete trovare articoli a livello divulgativo scritti da me per carità sul modello SAMR sulla tassonomia degli obiettivi di Bloom e anche tanti altri link allo stesso articolo di Maria Cristina Bevilacqua a dei webinar a degli articoli in inglese che vi consentiranno di avere una visione più approfondita della ruota della pedagogia che io ho cercato spero di esserci riuscito di proporvi con questa video guida vi ringrazio e vi auguro buona domenica dato che adesso in questo momento è domenica arrivederci grazie a tutti grazie a tutti